Max Mara è all'insegna della seduzione giocata sull'athletic chic degli opposti che si incontrano. Seduzione di una linea minimale evidenziata da tagliere trench perfetti e che usa tessuti tecnici nelle tute, nelle gonne e negli short che aderiscono al corpo come una seconda pelle. Opposti che si incontrano anche nei pantaloni larghissimi, in fondo animati però da spacchi vertiginosi o nel bianco vestito mozzafiato di tessuto, nella severità rigorosa davanti e stretch dietro. Sì, ma a partire dal fondo schiena perché fino alla vita la pelle, rifulge maliziosa in tutto il suo splendore.